Mosca! 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 il la ma la per il 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 e legge boh, e legge boh, e li, e li, e li, e li, e li, e li, e li! Ilma, ilma puoi ripartire! Video, video! Inizia! L'ingresso! Sinistra! Forza! 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 Allora, adesso... Luda! 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 Dopo! Dopo! E' una promessa! E' una promessa! E' un intro video! Se vi fate le giudizioni... Ma se vi spostate più al centro... Le fate! Le dina! Le fate! Barallo è un po' che è italiano! Ma tu c'è la maria che capisce niente della luna! E' una promessa! E' una promessa! E' una promessa! Lo vado di tutti! Prima che parla buio! Gli spero che lo lanciano là! Pricetta! Gli spero che lo lanciano là! Prima di tutti! Gli spero che lo lanciano là! Prima di tutti! l'uomo allora siamo qui allora allora vi parlerò di molto molto buco io si gozza danza come un piccolo portale di adoro no ragazzi adesso basta da un gruppo di amici mamma mia da un gruppo di amici che avevano semplicemente voglia di condividere foto di serate veste, vacanze e utilizzare un forum per commentarle ma chi l'ha sfruttato? non è che agire con gli iscritti in molto mollo nasce così negli ultimi tempi grazie al passaparola all'aumentare delle foto pubblicate su sito bravo 100 100 100 e ai continui miglioramenti apportati ai servizi i voti si sono affezionati al sito e le vittime sono salite in maniera sensibile termine molto lucato così si è deciso di abbandonare il concetto per gioco di Gino allontana di si pare il naso e entra a prendere un vero e proprio progetto curato da professionisti e se volete aggiungere qualcosa per me può andare benissimo per poter offrire maggiori e soprattutto migliori servizi agli iscritti appunto oggi molto mollo.it non è più definibile un portale bensì una vera e propria community infatti ora l'obiettivo principale è l'interazione tra gli iscritti ognuno ha una propria pagina personale con la foto propria è possibile lo scambio di messaggi privati cosa che prima non c'era è stato ricostituito radicalmente il forum e ora è suddiviso in aree tematiche è stata aggiunta una chat live e altre sezioni utili e divertenti come le previsioni meteo l'oroscopo per Gino e i video e soprattutto giochi dove inserite i video pornoli di Anna Maria? senza contare ah scusate non lo sapevo provvederemo a fare i video allora molto mollo nasce si chiama il nome nasce fondamentalmente da un'espressione da un'espressione come tutti conoscete di una mitica estate di qualche anno fa mitica tratta da un monologo di Diego Batantuono nel quale descrive la moglie Nunzia con queste parole e qua vi faccio aiutare dalla domenica e qua mi faccio aiutare dalla domenica e qua mi faccio aiutare dalla domenica con queste parole Diego Batantuono molto gentilmente descrive la moglie Nunzia in questo modo Nunzia ma la traccia è nuziazione è dopo in mezzo agli occhi il naso ma non quei nasi dolci a punta secchi proprio defelati un signor naso sai quei nasi imbottanti che quando passi per strada la gente si gira e dice cazzo che naso ma non con me poi non so e poi Diego Batantuono intrattene con una serie diversi edifici difficilmente riproducibili e poi li prende diciamo il naso diciamo che il naso è come un manganello molto mollo diciamo molto mollo come un battaglio ma non vanno mi stai solamente davanti e si arriva all'obelico diciamo ma molto ma molto ma molto ma molto adesso una breve introduzione al sito e dopo tornate ai vostri alcolici va bene mi dicono nella direzione che gli alcolici sono finiti perché li siete facci tutti quanti adesso c'è già eeeh braccioli eeeh 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 ormai oooooh 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 chichi menci spade di Anna Maria dov'è? oooh momento tuo ormai